... ricordati non fa sparire la tua faccia mai anche se tu hai ripreso da lì va bene però il corrento non fa liceo quindi come lo dico quando passa quella successiva ti rompiamo dopo la prima triste no tu fai andare finchè non finisci la clip tu non devi mai rompere togli solo l'audio no vieni solo l'audio ti faccio vedere come è denominata così almeno vieni allora iniziamo a girare e vai con la clip buona buona per tutti è partito al 2 e 1 volume alto buona 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 4 e 7 avete visto sono stato un antesignano con dennis giani berti a fondare un renzo arbore channel Do I see Yeah